Musica Si accupere il pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Musica In diretta dal Kennedy Stadium di Napoli, terza giornata, School Cup, Elio Vittorini che vede affrontarsi i maledetti contro Athletic Napoli, squadre che ora sono lì schierate al centro del Manterboso per il saluto ai propri tifosi. Squadre che ora passano a darsi il 5 e che poi si schierano a farsi il mercato del campo per dare insieme l'albitro dell'incontro, Gennaro Bonocore, a chiamare a sé i due capitani, capitano Andreozzi e capitano Clochiatti. Solteggiati, palla e campo, c'è un saluto da buon tempo tra Athletic Napoli e maledetti risultato di 0-0 tra le formazioni in campo. Ora seguiremo tutto il primo tempo. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa prima partita della terza giornata del torneo School Cup Elio Vittorini, dove i primi 25 minuti di gioco i maledetti hanno accumulato un buon vantaggio pari a tre reti a zero. Vedremo adesso se l'Atletico Napoli riuscirà a reagire e nel caso come lo farà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.